Che differenza c'è tra queste immagini e quest'altra? Nessuna, se non per gli alberi che hanno messo le foglie, malgrado tutto. Sono passati tre mesi dalla sciagurata decisione di Putin di invadere l'Ucraina e siamo sempre lì. L'offensiva russa è ancora concentrata nella regione sudorientale del Donbass, dove l'esercito ucraino sta perdendo tra i 50 e i 100 uomini al giorno, ammette Zelensky. I combattimenti più duri sono all'Isichansk e Severodonetsk, città gemelle da 100.000 abitanti l'una, divise da un fiume. I russi fanno saltare i ponti per isolarle e impedire rinforzi da Kiev, mentre i civili restano intrappolati. Stanno facendo terra bruciata, distruggono deliberatamente la città, denunciano i funzionari locali, mentre un'enorme colonna di fumo nero sale dalla raffineria di Isichansk. Dopo aver espugnato l'ultima roccaforte di Mariupol, l'acciaieria Azovstal, l'esercito di Mosca comincia a sminare il terreno e rimuovere i detriti della battaglia. La Russia deve pagare un prezzo sul lungo periodo per aver aggredito l'Ucraina, avverte Biden dal Giappone, mentre al Pentagono valutano se schierare soldati a protezione dell'ambasciata americana riaperta a Kiev. Mossa che irriterebbe non poco Putin. Il padrone del Cremlino oggi riceve a soci sul Mar Nero il fidato Lukashenko, dittatore della Bielorussia, che ha appena bandito 1984. Il romanzo in cui Orwell immagina una società totalitaria in cui la testa della gente viene plasmata a colpi di slogan come la guerra è pace.